Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignan in vostra compagnia. In A1 in direzione Bologna, traffico intenso e rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze in Truneta e tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico. Sulla A12 corre per traffico intenso in direzione Sud alla barriera di Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze, chiusi in entrata in direzione Firenze gli svincoli di Badesse e Poggi Ponsi Sud, possibili disagi per lavori tra Badesse e Monte Ligioni. Per il traffico ferroviario permane sospesa la circolazione sulla Faentina, Tamarradi e Faenza, previsti bus sostitutivi. Fino al 16 ottobre è nuovamente possibile accedere alla promozione bonus TPL Firenze per l'acquisto di abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale, bus, tramvia, treno, cittadino. Per la richiesta accedere alla sezione Parti con noi dell'app IF. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!